Oggi leggiamo Dove porta di Susanna Mattiangeli. Nella giornata di Nina ci sono tante cose da fare, parecchie parole da dire e anche alcune porte da aprire. Per prima c'è la porta di mamma e papà. La mattina lei si alza, entra e li sveglia più presto che può. Le mamme e i papà dormono forte, quelli di Nina ancora di più. Le mamme e i papà della mattina sono colline morbide da superare, pieni di nasi da tirare, orecchie da prendere e guance da baciare. Le hanno fatti apposta per questo. Nina ha una mamma e un papà molto comodi e allora bisogna rimanere lì per molto tempo. Poi però ci sono le finestre da spalancare, la colazione da mangiare e le maglie da infilare. In pochi minuti tutti sono in giro per la casa a fare tante cose insieme, perché il tardi, certe volte, arriva presto. Dopo c'è la porta di casa. Fuori può esserci il sole oppure la pioggia. A volte servono pochi vestiti, altre volte molti. Esci da quella porta e spam! La giornata è cominciata. Per la strada si salutano i vicini, si saltella, si corre in avanti, ci si ferma e si aspetta. Nina osserva se qualcosa è cambiato da ieri, sull'albero di pesco vicino al ponte o nella vetrina del negozio di cose da mangiare. C'è sempre una cosa diversa, una foglia nuova, un cartello in più, i vestiti della gente. Tutti si muovono veloci, si dicono buongiorno e vanno via. Ognuno deve entrare in una porta. Nina sa che il portone della scuola è aperto e l'aspetta. È grande perché deve far entrare tante persone tutte insieme. Poi bisogna camminare ancora un po'. Nina conosce la strada. Qualche salto, una corsetta ed è arrivata. La porta della classe è più piccola. Fa entrare i bambini e lascia fuori le mamme e i papà. Nina si affonda in abbracci comodi, bacia le guance ed entra. Quando la porta della classe si chiude, Nina sente delle guance morbide che si allontanano. Guance di mamme e di papà che vanno al lavoro, vanno in giro, vanno a fare cose di tutti i giorni fuori da quella porta. Ma intanto è iniziata una storia e bisogna ascoltarla perché chissà come va a finire. Poi c'è una merenda e bisogna mangiarla perché a Nina è venuta fame. C'è un gioco nuovo da imparare, un lavoretto da finire, le mani da lavare. Ogni giorno si fa tutto un po' meglio. Si gioca meglio, si dipinge meglio, si parla meglio con gli amici. Ci sono troppe cose nuove da fare e troppe parole nuove da dire in una giornata. Così tante che Nina non si accorge che la porta della classe si è aperta di nuovo. Spuntano i papà e le mamme, tornati dai loro lavori, dai loro giri, dalle loro cose da grandi. È l'ora di salutare la scuola, uscire dal portone e correre ancora un po'. Nina fa la strada al contrario e la luce è cambiata. Passano le ore e i colori si stancano sempre di più, finché viene il buio. Poi ci sono tante cose da raccontare e nuove storie da ascoltare. Quando a Nina viene sonno ci vogliono ancora un po' di guance, di abbracci e di cose morbide. La giornata è finita, si possono chiudere gli occhi. Nina dice buonanotte. Solo quando uscite dalla sua stanza ricordate di lasciarle la porta aperta.